Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi parliamo di uno stabilizzatore per Action Cam. Il prodotto che portiamo oggi sul canale è il Falcon della Inkey, abbiamo già portato sul canale altri prodotti di questo brand e in questo caso si tratta di uno stabilizzatore a tre assi da utilizzare con le nostre Action Cam. Mentre vado ad aprire la confezione vi chiedo come al solito di mettere un mi piace sotto questo video per supportarmi e farmi crescere col canale, per voi è gratuito, per me è molto importante per riuscire a portare sempre nuovi contenuti ogni giorno, inoltre iscrivetevi cliccando qua sotto sul canale per ricevere notifiche a tutti i video che andiamo a pubblicare ogni giorno su Recensioni per Scegliere e qua sotto in descrizione, oltre al link per acquistare questo prodotto, trovate il link anche al mio canale Telegram dove vado a pubblicare offerte buoni sconto per acquistare online. Ma ora vediamo subito qual è il contenuto della confezione e come funziona questo stabilizzatore per Action Cam. All'interno della scatola troviamo un manuale di istruzioni disponibile in cinese e in inglese ma come vedremo il funzionamento è molto semplice. Poi troviamo subito il nostro stabilizzatore. Come vediamo si tratta di uno stabilizzatore dalle dimensioni veramente compatte quindi perfetto per adattarsi all'utilizzo con la nostra Action Cam, ottimo appunto anche da portare in viaggio. La parte superiore dello stabilizzatore è realizzata in acciaio, mentre invece la parte sotto è realizzata in plastica. Come vedremo tra poco nella parte frontale qua sono presenti i comandi per andare a controllare i movimenti dello stabilizzatore abbiamo la possibilità di andarla a ricaricare tramite la porta USB Type-C posta sul lato mentre invece sull'altro lato abbiamo i tasti per far partire la registrazione di un video, scattare delle foto comandi che saranno compatibili con tutti i modelli di GoPro. All'interno della confezione poi troviamo ancora un cavalletto realizzato in plastica perfetto da andare a collegare qua nella parte bassa dove è presente un attacco a vite che ci permetterà volendo di andare a estendere le dimensioni del nostro stabilizzatore in modo tale da avere una presa più salda, ci permetterà di andarci ad allungare leggermente ma soprattutto ci consentirà di andare a appoggiare il nostro cavalletto su un tavolo per effettuare magari delle riprese o effettuare dei timelapse. All'interno troviamo poi ancora un cavo di ricarica USB USB Type-C il perno per andare a bloccare la nostra Action Cam e alcuni accessori per andare a bloccare le viti quando necessario. È possibile utilizzare questo stabilizzatore con tutte le principali Action Cam infatti grazie all'attacco GoPro è compatibile praticamente con qualsiasi Action Cam che avete a disposizione quindi le classiche GoPro, la Insta360 che abbiamo noi o ancora la DJI Osmo Mobile o altre Action Cam che dispongono sempre dell'attacco GoPro. Il collegamento della Action Cam è veramente semplicissimo ci basterà andare a posizionare la Action Cam con il cage qua all'interno dell'alloggiamento e poi andarla a bloccare con la vite in dotazione in questo modo il nostro gimbal sarà pronto per essere acceso. Vado quindi ad accenderlo e in automatico andrà a calibrarsi ok come vediamo è pronto e possiamo andare a iniziare a effettuare i nostri movimenti che andrà a stabilizzare l'immagine e andrà a stabilizzare la ripresa effettuata con la nostra Action Cam. Lo stabilizzatore Falcon della INB supporta fino a 200 grammi di peso quindi potremo andare a gestire delle Action Cam anche più pesanti come ad esempio la Insta360 con il modulo Leica. Sappiamo tutti che le Action Cam dispongono già di una stabilizzazione interna ma il grande vantaggio di utilizzare uno stabilizzatore di questo tipo con una Action Cam è il fatto che potremo andare a riprendere con una qualità maggiore senza andare a utilizzare la stabilizzazione interna della nostra Action Cam che solitamente va a accroppare l'immagine. Quindi avremo la possibilità ad esempio di andare a riprendere con la lente della Insta360 One R Leica in 4K andando a disattivare la stabilizzazione e utilizzando il nostro gimbal a tre assi per andare a stabilizzare la nostra ripresa. Inoltre un altro grande vantaggio che abbiamo nell'utilizzo di uno stabilizzatore è che potremo andare a gestire i movimenti in modo fluido grazie proprio al joystick presente qua nella parte superiore con un pollice potremo semplicemente andare a muovere la nostra Action Cam per effettuare delle riprese molto più fluide potremo con il tasto presente qua nella parte posteriore andare anche a bloccare il movimento della camera che potrà appunto andare a seguire i nostri movimenti in tutte le direzioni o potrà essere invece bloccato su un singolo asse. In questo modo potremo quindi andare a effettuare delle riprese ancora più professionali con la nostra Action Cam e avremo a disposizione anche il cavalletto che ci permetterà di effettuare dei motion laps o degli star laps veramente professionali. Con questo gimbal è possibile andare a scattare in verticale o in orizzontale quindi in base a quelle che sono le vostre esigenze di ripresa magari per i social potrete anche decidere di andare a ruotare la camera e andare quindi a utilizzare la modalità in verticale. Lo stabilizzatore funziona con una batteria da 2500 mAh quindi avremo durata a sufficienza per andare a riprendere con la nostra Action Cam per tutto il giorno. Inoltre grazie proprio all'attacco GoPro potremo andare a montare e smontare velocemente la nostra Action Cam dal gimbal senza alcun problema. Come al solito se avete delle domande potete lasciare un commento qua sotto cerco sempre di rispondere a tutti. Fatemi sapere se anche voi utilizzate una Action Cam per effettuare le riprese di foto e video questa potrebbe essere una soluzione molto interessante. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Per questo video con lo stabilizzatore Falcon della Inkey è tutto noi ci vediamo alla prossima recensione per scegliere. Ciao da Enrico!